Ciao ragazzi, eccomi ancora qua, vi presento la quarta ricetta, un renta con formaggio e uova all'otto di voi. Per la ricetta di oggi i nostri alimenti sono un litro di acqua, 200 grammi di farina gialla, noi abbiamo usato quelle istantanee per motivi di tempo, ma da casa potete usare benissimo quella fresca, 200 grammi di formaggio, noi abbiamo usato della fontina e della cucchioccherina, ma da casa potete usare benissimo qualsiasi tipo di formaggio. L'importante è che fondi, 50 grammi di formaggio grana, un uovo e due noci di burro. Adesso che vuole l'acqua andiamo a versare la nostra farina nella polenta e andiamo a cuocerla per 6 o 7 minuti. Una volta che la polenta è pronta cominciamo a fare gli strati, allora si comincia con uno strato di formaggio, poi procediamo con uno strato di polenta, poi dobbiamo continuare con uno strato di formaggio, uno strato di polenta, finiamo con l'ultimo strato di polenta, una volta che abbiamo finito la nostra polenta andiamo a versare il formaggio sulla pirofina, andiamo a metterla in forno a gratinare. La polenta è gratinata per un quarto d'ora a 180 gradi ed è pronta adesso per essere servita e l'accompagniamo con un nuovo locchio di bue.